Ma è la Chiara Giannetta con Emma D'Aquino e nella settimana in cui sono riapparse le profezie di Nostradamus potevamo noi farci mancare quelle di Nostro Raimondus, eccolo qua, eccolo qua, non il Nostradamus che vi meritate ma quello di cui c'è bisogno, buonasera, buonasera, dunque cosa succederà la prossima settimana? Ve lo rivelo io con la mia agenda, prego dalla regia. Un inno nazionale, una previsione per ogni giorno della prossima settimana a partire da domani, domenica, quando il meteo peggiorerà. L'abbiamo già visto in questi giorni, pioggia, neve e temperatura in ribasso, ebbene domani farà talmente tanto freddo che la nazionale italiana di calcio perderà persino contro la Lapponia. Lunedì invece il presidente russo Putin contornerà a chiederci di pagargli il gas con i rubli. Ma chi ce l'ha i rubli in Italia? Ah già, la Lega! Ecco, ho trovato, chiediamo a Salvini se quei 49 milioni ce li restituisce in rubli così poi li giriamo direttamente a Salvini, a Putin. Martedì invece il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, prosegue la sua escalation verbale contro Vladimir Putin. Dopo i giorni scorsi avergli dato del macellaio del dittatore, del criminale di guerra, Biden dirà che Putin c'ha l'alopecia. Mercoledì invece proseguiranno i colloqui di pace fra l'Ucraina e la Russia. La Russia accusata di stare bleffando al tavolo della trattativa si dimostrerà invece sinceramente interessata alla pace sganciando su Kiev soltanto bombe arcobaleno. A proposito di guerra, in questi giorni al confine con l'Ucraina è stato avvistato l'ex senatore Razzi, eccolo qui, portare degli aiuti. Ecco, non credo che intendessero questo genere di razzi gli ucraini quando ci chiedevano degli aiuti a noi italiani. Comunque, meglio lì che in Parlamento, fa meno danni, meglio lì che in Parlamento. Giovedì il presidente turco Erdogan verrà chiamato a fare da mediatore anche nei colloqui di pace fra il presidente del Consiglio Draghi e Giuseppe Conte, il quale in questi giorni ha minacciato, si è ribellato contro il governo perché non vuole sostenere l'aumento delle spese militari che lui stesso Conte aveva sottoscritto quando era premier. Giuseppe Conte sostiene che il governo Draghi si è allargato ad est e minaccia di far cadere il governo. Addirittura Conte minaccia di usare contro Palazzo Keiji le bombe atomiche del Movimento 5 Stelle, cioè Danilo Toninelli e Virginia Raggi. Sostanzialmente Conte dice che per gli italiani la priorità sono le bollette e non le armi, solo che in caso di terza guerra mondiale Conte non ha chiarito se dovremmo difenderci con le bollette del gas o con quelle della luce. Venerdì prossimo, dopo una settimana, cominceremo invece a vedere i primi effetti della fine dello stato di emergenza pandemico. I produttori di Plexiglas chiederanno i ristori al governo, mentre alcuni virologi caduti in depressione faranno domanda per il bonus psicologo. La storia dei membri del Comitato Tecnico Scientifico abbandonati in autostrada commuoverà il mondo e Locatelli verrà adottato da Angelina Jolie. E per concludere, sabato, durante la prossima puntata delle parole, Massimo Gramellini, offeso da una mia battuta sul suo taglio di capelli, si alzerà in piedi e mi mollerà un ceffone in diretta tv. Ecco qui vedete un'immagine di anticipazione. Poi però Gramellini si scuserà, esattamente come Will Smith si è giustificato dicendo l'amore fa fare cose folli, così Gramellini si giustificherà dicendo l'andropausa fa fare cose folli. E se vuole Gramellini adesso mi scaffeggio da solo, guarda, faccio tutto da solo. Io la prendo talmente in parole.